Sabato 8 febbraio intorno alle 14 nei pressi di Carpegna due controllori dell'Adriabus che stavano verificando il possesso dei biglietti da parte dei viaggiatori sulla linea 45 sono stati aggrediti da un passeggero, un giovane sprovvisto di biglietto che alla richiesta da parte dei due funzionari di fornire le sue generalità sono invece stati investiti da urla, sputi, spintoni ed insulti prima di scendere dal mezzo e darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. A denunciare l'accaduto è la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della CGL che bolla come grave questo ennesimo episodio di aggressione nei riguardi di personale di servizio sui trasporti pubblici che si aggiunge ai numerosi casi simili verificatisi nei mesi scorsi nonostante gli sforzi messi in campo dalla prefettura e dalle forze dell'ordine con servizi speciali indirizzati proprio a prevenire e reprimere questo deprecabile serie di episodi di violenza nei confronti degli altri. Al momento non è stata sporta denuncia fa sapere il sindacato ma attraverso la voce del segretario generale Luca Polenta si chiede all'azienda dei trasporti Adriabus di aumentare il personale di verifica anche il sabato in modo da garantire maggior sicurezza ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni maggiormente sulle linee più a rischio già segnalate dal sindacato.